Dopo il percorso con Next, la Fondazione Egri si ritrova in una nuova dimensione organizzativa, rivalorizzando i contratti del proprio personale, aggiungendo delle figure professionali competenti e quindi creando un'organizzazione più competitiva anche. A livello di produzione, certamente quello che sarà, sarà una internazionalizzazione della nostra produzione, andando a lavorare in mercati europei principalmente e poi espandendoci in mercati extraeuropei. Per la formazione andremo a valorizzare le potenzialità della nostra fondazione, soprattutto nell'alta formazione e anche in sinergia con le proposte delle nostre istituzioni. Per quanto riguarda la programmazione, ridisegnare quella che è la nostra linea di proposta nelle varie aree geografiche, cercando di focalizzare mission specifiche per ogni comunità e per raggiungere quell'equilibrio economico-finanziario che renderà armoniosa l'attività della nostra fondazione. Grazie.